Buon pomeriggio, sono le 15.08 e apriamo la seduta della Commissione per le opportunità di oggi. Procedo come al solito con l'appello e per i commissari e le commissarie che dovessero aver bisogno di attestazione di volermene dare una comunicazione. Grazie. Allora, Baccari? Presente con attestazione, grazie. Angelini? Presente. Bartolelli? Ucunato? Sono presente con attestazione, grazie. Marrocchini? Presente, buongiorno. Pasetti? Sordini? Presente. Ok, però c'era una seconda chiamata per i consiglieri. Bartolelli? Però non vedo... Presente. Ah, eccola. Salve. E la consigliera Pasetti. Ok. Allora, prego presidente, i presenti sono sei, a lei la seduta. Grazie, Manuela. Allora, apriamo la seduta, visto che abbiamo il numero legale. Io direi di iniziare subito con i verbali da approvare, che se non sbaglio avevamo in sospeso quello della scorsa riunione che non abbiamo approvato. E poi ho visto che ne hai caricati altri due? Sì, sì, i verbali che erano rimasti. Ok, io devo essere sincera, non li ho visti, ne letti, perché come sapete stamattina eravamo in consiglio. Quindi se vi va, li leggiamo insieme e li condivido nella commissione, nella chat, se volete. Sì, grazie presidente, non li ho letti neanche io. Ok, vediamo se riesco ad aprire. Lo vedete? No. Allora... Vediamo lo schermo condiviso, ma è tutto bianco. Ok, adesso... Ricondivido. Ok, ora sì. Ora sì, perfetto. Allora. Lo leggo, eh. Commissione pari opportunità, l'anno 2003, il giorno... Eh, è il verbale numero 24 del 2023, il giorno, eh, 10 del mese di ottobre alle ore 15 è stata convocata la commissione pari opportunità in modalità videoconferenza tramite sistema in uso di Roma Capitale per discutere il seguente ordine del giorno. Approvazione verbali del 12-09-2023, consulta delle donne, aggiornamenti, esame posta, varie ed eventuali. La seduta apre alle ore 15.06, sono presenti la presidente Vaccari, consiglieri Angelini e Bartolelli Cucunato dalle ore 15.09, Marrocchini, Deiulis in sostituzione di Pasetti e Sordini. Inoltre presente, assessora tranquilli, beni comuni, partecipazione, politiche giovanili, innovazione digitale e periferie, municipio 9, direzione apicale, ufficio, sistemi informatici del municipio Roma 9 euro. La segretaria verbalizzante Emanuela Mondo, ad Empimenti, la presidente, eh, la presidente presiede la seduta e dopo aver constatato il numero legale alle ore 15.06, dichiara ufficialmente aperta la seduta odierna, regolarmente convocata alle ore 15. La commissione procede all'esame del primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbali del 12-09-2023, si dispone quanto segue. 21-23, letto e approvato. Alle ore 15.18 la presidente dispone un breve sospensione in attesa dell'assessore, alle ore 15.24 la seduta riprende. La commissione procede all'esame del secondo punto all'ordine del giorno, consulta delle donne, aggiornamenti. La presidente introduce l'argomento, cede la parola all'assessora per un quadro degli aggiornamenti. L'assessora comunica che l'8 settembre è stato il termine di chiusura delle procedure di adesione. Gli aderenti alla consulta sono 8, illustra i prossimi passi. Prima convocazione dell'assemblea, a differenza della consulta dei giovani per la quale si era proceduto con i passaggi informali preliminari, in questo caso propone convocazioni formali. Auspica che una volta nominati gli organi direttivi per la pausa natalizia, se non anche entro la data del 25 novembre, la consulta sarà operativa. La presidente Vaccari domanda se vengano o meno prese in considerazione richieste di adesioni pervenute successivamente. Ritiene che l'operatività entro la data del 25 novembre sarebbe auspicabile e avrebbe anche un valore simbolico. L'assessora precisa che il termine di chiusura è imperativo, in quanto specificato nell'avviso pubblico aggiunge che oltre tale data non risultano pervenute in ulteriori adesioni. Il consigliere Cucunato considera che sarebbe stato meglio tenere aperta la possibilità di adesioni almeno fino alla certa composizione degli olgari per la maggiore partecipazione. La presidente Vaccari non si aspettava grandi numeri vista la presenza, ad oggi non molto nutrita di associazioni sul territorio. Rileva che senza un termine si sarebbe rischiato di non avviare mai lavori. propone di procedere con la data di convocazione. L'assessora sottolinea anche il tema delle attività di verifica e controllo amministrativi da fare. Comunica inoltre che inoltre era richiesta al presidente d'aula per la disponibilità, qui c'è un errore due volte là, dell'aula verificando la possibilità di un giorno in cui è calendarizzata la seduta della commissione. La presidente Vaccari ringrazia e congede l'assessora, non essendoci altri argomenti da affrontare. La presidente alle ore 15.45 chiude la seduta. Per me va bene, a parte questa piccola correzione verso la fine. Emanuela? Anche per me va bene. Preso atto, grazie presidente. Emanuela, buongiorno, volevo comunicare che sono entrata. Buongiorno presidente. Buongiorno Laura. Allora, diciamo che questo verbale a questo punto l'abbiamo approvato. Ora cerco l'altro, così poi ve lo ricondivido. Grazie. 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 Grazie a tutti. L'esame al primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale del 3.10.2023, approvazione del verbale numero 23.23 in argomento. Alle ore 15.20 la Presidente dispone una breve sospensione in attesa dell'ospite. Alle ore 15.33 la seduta riprende l'appello tutti i presenti. La Commissione procede all'esame del secondo punto all'ordine del giorno, esame ed eventuale espressione di parere sulla proposta di risoluzione e cambio di intitolazione al centro antiviolenza di via Nicola Stame, acquisita al protocollo CN 13.63.08 del 20.10.2023. La Presidente introduce l'argomento, comunica che il CAB non ha potuto presenziare, per cui propone alla Commissione di disporre il rinvio ad altra data della trattazione dell'argomento. Segue confronto interno alla Commissione rispetto alla proposta della Presidente sulla opportunità di procedere o meno con la trattazione del tema. I consiglieri Cucunato e Pasetti, considerata la partecipazione alla seduta di alcuni cittadini, ritengono di procedere alla discussione dell'argomento per comprendere la razio della proposta di risoluzione in argomento. Il consigliere Angelini illustra le ragioni della proposta di risoluzione nata su richiesta da parte del CAB, visto che la risoluzione è stata richiesta proprio dall'ente. Non si vuole attestare il diritto di parlare a nome dello stesso, per cui è dell'idea di posticipare l'argomento d'altra seduta. Il consigliere Cucunato esprime notevole disagio rispetto al metodo di discussione sulla risoluzione, riserva delle perplessità sull'iter seguito, che ha visto il ricorso ad un atto senza un preliminare passaggio in Commissione, come avviene di prassi all'interno della stessa. La Presidente Vaccari precisa che non è stato contattato solo il consigliere Angelini, in quanto la problematica è stata sottoposta dal centro antiviolenza anche alla sua persona, motivo per cui aveva chiesto l'audizione della responsabile del CAB, la quale per un'urgenza non ha avuto modo di venire in audizione per esplicitare la richiesta. La consigliera Canale consulta, constata che il motivo della seduta udierna risiede nel diretto esame ed espressione di parere su di un atto che è stato già predisposto ed acquisito al protocollo del municipio, dando l'attestazione di una esistenza di problematica esterna. Osserva che l'istruttoria non è stata fatta dalla Commissione, bensì fuori dalla sede della stessa, per produrre un atto che, in seconda battuta, deve essere confermato dal CAB e gestito dall'Associazione Obiettivo Uomo. La consigliera Marrocchini auspica l'ascolto del CAB e nel frattempo propone di affrontare il tema ascoltando i cittadini presenti per poi riproporre la calendarizzazione anche in una successiva seduta. La consigliera Pasetti prende le distanze da quanto apparso sulla stampa secondo cui la proposta di risoluzione sarebbe stata colta dalla volontà della Commissione, cosa da cui si discosta. La presidente Vaccari, sulla possibilità di non discutere l'atto, precisa che si è trattato di una richiesta che proviene dal CAB, portavoce delle donne eseguite, rispetto alla dichiarazione fatta sulla stampa ieri la presidente precisa di aver parlato a nome della Commissione in quanto presidente. La consigliera Canale è precisa che non ha da eccepire sulla cooperativa ma ha avuto assegnato il bando, che ha avuto assegnato il bando, coglie l'occasione per sottolineare che si chiama Obiettivo Uomo pur trattandosi di un centro antiviolenza, con l'intento di smontare l'argomento alla base della proposta di risoluzione all'ordine del giorno finalizzata al cambio di denominazione del centro. Trova pretestuoso il cambio di denominazione a Massimo Di Gregorio. Trova che la questione non attenga alla politica, pone una questione di principio e di concetto sulla parità di genere. Il consigliere con curato osserva che nulla vieta ad un commissario di raccogliere istanze provenienti dalla cittadinanza, proponendo una mozione da presentare in Consiglio. Sottolinea che quando si tratta di atti collegati non si possa mettere al centro aspetti che non riguardano la sfera istituzionale, ma va rispettato leader di lavoro collegiale che ha un rilievo diverso rispetto all'atto. Iniziativa di un singolo consigliere ritiene il tema dell'intedunazione un tema da presentare al Consiglio organo collegiare. La Presidente Vaccari rifiuta l'intento impositivo che le viene attribuito si rammarica rispetto a quella eco sulla vicenda. Il consigliere Cerisola ricorda che alle origine la scelta di intitolare il nome fu il risultato di un percorso partecipato, frutto di una riflessione condivisa su un atto del Consiglio che ha avuto l'unanimità di tutti i consiglieri, più che il nome del CAB servono più CAB. La Presidente Vaccari, su richiesta di un cittadino, chiede ai consiglieri se desiderano procedere con la lettura dell'atto, non avendo avuto riscontro, propone di rimandarla ad ulteriore seduta. I lavori procedono con esame del punto terzo all'ordine del giorno, comunicazioni su iniziative da svolgere per la giornata del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La Presidente introduce le iniziative, pensate in accordo con la sora di Salvo, l'installazione di una panchina rossa davanti alle scuole per ricordare tutte le donne vittime di violenza, iniziativa per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, sul numero verde 11522, riconvocando il tavolo interistituzionale con la Polizia di Stato e le associazioni che si occupano di violenza contro le donne per il 2011, previsione per il giorno 25 novembre di uno spettacolo Gli occhi delle donne, teatro di improvvisazione su tutto l'universo femminile con uno sguardo particolare agli amori delle donne. Non essendoci posta per le varie ed eventuali, la Presidente riferisce in merito alla giornata di ieri sul progetto C'è Angela, informa l'adesione di sei attività commerciali, che considera un riscontro importante considerato il numero di richieste di adesione pervenute. Insieme con il Municipio 10, si intende produrre una nota affinché il progetto trovi divulgazione in tutta Roma. Sulla consulta delle donne, a prossima settimana la verifica delle richieste di cittadini e istituzioni. Il consigliere Cugunato esprime il proprio apprezzamento per iniziative della divulgazione del progetto C'è Angela, su cui ritiene opportuno un monitoraggio e un maggiore coinvolgimento delle associazioni territoriali, comprese le consulte. Esauriti i punti in discussione, la Presidente Vaccaria alle ore 17.20 chiude la seduta. Io non ho nulla da aggiungere, per quanto ho già letto. Non so se i consiglieri hanno altre osservazioni. Anche per me la parola. E allora diamo per approvato anche questo verbale. Vorrei chiedere una cosa, Presidente. Prego, Laura. Abbiamo letto nel verbale dell'intitolazione del CAV che si sarebbe proceduto all'ulteriore seduta. Ma l'ulteriore seduta non c'è stata, la faremo? Allora, l'ulteriore seduta non c'è stata perché, come abbiamo poi letto nel punto 3, le varie iniziative che si sono svolte per il 25 novembre, tant'è che noi non ci siamo visti per ben due commissioni. Non ho convocato, proprio perché ero impegnata sulla gestione delle giornate del 25 novembre. Pertanto, tra l'altro, anche il CAV era impegnato in questo. Infatti io sabato sono andata presso la sede del CAV a vedere, insomma, all'inizio ero stata invitata, ho parlato con un po' di donne, ho parlato con la responsabile del CAV e mi ha detto che appena avrà la data utile ce la comunicherà in modo che noi riparleremo di questa tematica. Non ne abbiamo più avuto modo da quel giorno, solo per quello non ne abbiamo più parlato. L'importante è, Presidente, che se ne possa riparlare comunque anche per approfondire la questione in commissione. Sì, sì, ma certo, è stata messa semplicemente da parte, sempre perché noi vogliamo udire ovviamente la responsabile del CAV. Va bene, sì, sì, me lo ricordo. Quello è un punto essenziale della proposta di risoluzione. Prego, consigliere Ugunato. Sì, sì, sì. Piero? Sì, eccomi. Ah. No, perché non sentivo, non ho sentito l'ultimo pezzo, però penso sia un problema. Quello di Laura l'ho sentito, poi non ho sentito più niente. Allora te lo ripeto se vuoi. Sì. Allora, no, Laura mi chiedeva appunto se la risoluzione era morta lì, oppure... No, dobbiamo udire comunque i responsabili del CAV. Io non ho neanche inconvocato le commissioni, come ben sapete, perché ero presa dall'organizzazione della settimana del 25 novembre. Quindi, tra l'altro, sono andata anche sabato presso la sede del CAV, dove anche loro avevano fatto delle iniziative con le donne del CAV. Ho riparlato con la responsabile, mi ha detto che appena possibile mi dava una data. Appena ho la data ne riparliamo. Bene, io voglio però aggiungere una cosa. Sì. Benissimo che ne parliamo in commissione, perché è un argomento come ho già ribedito da commissione, quindi di collegiale, per poi, diciamo, se si va avanti su questa iniziativa ci sia l'ultimo organo decideniale che è il Consiglio, eventualmente. Mi sembra però di aver capito, di aver intuito, che non ci sia l'intenzione di proseguire in questa strada, oppure è solo una mia impressione. No, di parlarne in commissione? No, di parlare in commissione sì, di cambiare il nome? Di cambiare il denominazione, sì. Allora, io l'ho detto quel giorno e si evince anche dal verbale e lo ribadisco nuovamente. Questa è, tra l'altro mi è stato detto anche sabato, alcune donne che erano presenti nel CAV. È una richiesta delle donne che si rivolgono al CAV, quindi io non ho fatto altro che portare questa istanza all'attenzione della commissione. una volta che è in commissione si deciderà insieme se proseguire o meno all'ascolto di queste donne. Una volta che abbiamo sentito il CAV, ovviamente perché ho chiesto alla responsabile del CAV di venire? Semplicemente perché non posso chiedere alle donne che sono vittime di violenza, che vengono seguite dal CAV, di venire in commissione. Voi capite bene che per la loro incolumità, ma anche per la loro… è un conto parlarne con la Presidente della commissione, è un conto parlarne con tutti i commissari di una commissione in una diretta dove possono venire tutti i cittadini, parlare della propria condizione anche di vergogna, perché noi le dobbiamo mettere in protezione, non le dobbiamo portare alla cugna mediatica. Quindi questa è una cosa che poi decideremo insieme in commissione. io l'ho detto anche quel giorno, la prassi vuole che se dobbiamo fare una risoluzione per poterla votare, per poterla comunque discutere, ha bisogno di questo iter che a mio parere è assurdo della protocollazione e eventualmente poi della discussione e votazione in commissione, io mi sono attenuta a quelle che erano le regole imposte dal regolamento del municipio, tutto qua. Non so se sono stata chiara, consigliere comunato. Non ti sentiamo se non ti smuti. Sì, sì, va bene, stavo dicendo concordo, concordo, va bene. Perfetto. Allora, se non avete altro io darei per approvato anche questo verbale, così passiamo al terzo e andiamo avanti. Ok, andiamo avanti. Scusate, non riesco ad aprirlo. Ok, andiamo avanti. Lo vedete? Allora, procedo alla lettura del verbale numero 26 del 2023. L'anno 2023, il giorno 7 del mese di novembre alle ore 15 è stata convocata la commissione varie opportunità in modalità videoconferenza tramite sistema in uso di Roma Capitale per discutere il seguente ordine del giorno. approvazione verbale del 10-10-2023, suicidi adolescenziali, presentazione e progetto Io chiedo aiuto, campagna di prevenzione del suicidio in adolescenza, esame posta varie ed eventuali. La seduta apre alle ore 15.07, sono presenti la presidente Vaccari, consiglieri Angelini e Bartolelli alle 15.30, cucunato, Marrocchini e Sordini. Inoltre presenti l'assessora Tranquilli, l'assessora Laurelli, ASL Distretto 9, Network Territoriale dell'Ordine degli Psicologi del Lazio. Questa è una brevità. La segretaria verbalizzante Emanuela Mondo, ad entipimenti la presidente presiede i lavori e dopo aver constatato il numero legale alle ore 15.07, dichiara ufficialmente aperta la seduta odierna, regolarmente convocata alle ore 15. Considerata la presenza degli ospiti, la presidente dispone di invertire l'ordine dei lavori procedendo con, qui c'è un errore, O.C.N. C'è scritto il punto 2 all'ordine del giorno. Procede l'esame del secondo punto all'ordine del giorno, suicidi adolescenziali, presentazione progetto Io chiedo aiuto, campagna di prevenzione del suicidio in adolescenza. Introduce l'argomento informando di un fatto increscioso avvenuto nel municipio con il suicidio di un ragazzo vicino al parco del Castellaccio, tra il 31 ottobre e il 1 novembre, ultimo scorso. L'intento della seduta odierna è un focus sul tema con gli ospiti cercando di dare diffusione del progetto Mi salvo da solo. No, il progetto è sempre Io chiedo aiuto. Manuela, questo qua è sempre Io chiedo aiuto. Perfetto, ok. C'è della parola, sì. Le finalità e ambiti di intervento, nato in occasione della sottoscrizione del protocollo d'intesa dell'ordine degli psicologi del Lazio con il municipio Romanove, che ha dato via al lab benessere psicologico. Prevede una campagna di prevenzione del suicidio e dell'autolisiolismo attraverso la creazione di una piattaforma per rendere lab, qui c'è un di di troppo, un osservatorio permanente a livello territoriale. Il progetto illustra nel dettaglio le attività svolte nelle scuole, incontri con gli adulti, insegnanti e genitori, insieme a cui seguono incontri separati con gli uni e poi con gli altri. Incontri con i ragazzi, gli adolescenti verranno incontrati dai facilitatori della Croce Rossa, giovani anch'essi, che porteranno moduli nelle scuole sui significati e opportunità che permettono di vivere in una società aperta al benessere psicologico. Ultimato il lavoro in presenza, si attiva il lavoro dell'osservatorio in piattaforma, diviso in tre ambienti, uno giovani, due educatori e tre familiari. Alla fine del progetto vi è una logica di reciproco aiuto, dove i giovani possano aiutarsi tra loro sulla base di segnali a rischio. Verranno forniti spunti di psicoeducazione sempre più mirati e tutte le aree tematiche che rientrano in ambito psicologico e che comunque sono correlate al discorso della ideazione suicidaria piuttosto che l'autolesionismo. La Presidente Vaccari domanda il numero dei ragazzi che hanno partecipato. L'ODP replica che i dati puntuali si avranno a fine novembre con la raccolta di tutti i questionari online. Al momento emerge una maggioranza di giovani che hanno indicato di trovarsi in condizioni di malessere. Gli riscontri al progetto sono positivi, denotano il fabbisogno di parlare di un tema che impaurisce. L'assessore ancora tranquilli sottolinea prospettive future del progetto che ritiene vada ampliato e tutelato. Rispetto alla medialità propone nuove modalità interattive tramite app o sito per raggiungere facce più ampie. L'ODP domanda se sia previsto per il futuro uno sportello online per consentire al target di aprirsi in modo differente. NT precisa che ad ora non sono sui social. Attualmente le risorse operative del progetto sono cinque. L'ordine nella fase pilota ha prestato supporto con la piattaforma e finanziato un primo impegno di energie umane. Il progetto ha un costo che finora è stato sostenuto a titolo volontario. Aspica nell'apertura del progetto alla comunità. Rispetto agli sportelli di ascolto esistenti presso le scuole risponde l'assessore a tranquilli che si tratta di un primo approccio importante ma non sempre funzionale in caso di sofferenza. Come municipio è stato già costituito lo sportello del lab territoriale dove viene dato ascolto gratuito e un colloquio con lo psicologo e lo psicoterapeuta e forniti i riferimenti di rinvio alla ASLE o alla struttura privata nel caso di necessità di supporto immediato. L'assessora Laurelli ritiene che il servizio offerto a titolo gratuito con il protocollo di intesa vada valorizzato in quanto i dati evidenziati riportano un crescendo esponenziale di criticità. Ringrazia le psicologhe per l'attenzione che è comune. Chiede aggiornamenti rispetti al progetto Chiedo Aiuto iniziato nella primavera 2023 e domanda aggiornamenti sull'entità dello stanziamento dei fondi per il prossimo anno solare. Teme vengano suscitate aspettative tali per cui sollecitare le persone che entrino in interazione e con l'anno nuovo a gennaio il progetto Resti Senza Fondi come un puro esercizio di indagine, seppur necessario. TN precisa che il progetto non ha subito modifica, si svolge sia agli adulti sia alle ragazze. La piattaforma nella seconda parte sarà interattiva al fine di aprire un dialogo con le ragazze per costituire progetti tra pari con la supervisione degli psicologi. Specifica le modalità di finanziamento. Dall'Ordine del Lazio con budget minimo il progetto è stato finanziato in parte. L'altra parte è opera di investimento volontario di Croce Rossa e del personale. A chiusura dell'anno 2023 con il cambiamento della consigliatura dell'Ordine per fine dicembre auspicano report alla mano che venga garantita la continuità progettuale. Chiedono un tavolo tecnico per attivare e coinvolgere le sinergie. L'assessora Laurelli domanda il ruolo della Croce Rossa italiana e al momento. Ritiene che le istituzioni pubbliche, la ASLE e il Comune debbano programmare la messa a bilancio di fondi per supportare questi progetti. Risponde favorevolmente alla proposta di fare sinergia tramite la presidente del municipio di Salvo e la ASLE RM2 per tentare di avviare il progetto da gennaio nell'anno solare 2024. TN precisa che attualmente Croce Rossa italiana ha concluso la propria parte a novembre. È tutto sospeso fino al nuovo anno solare. Se il progetto verrà ripreso, ritornerà per capire cosa fare. La presidente Vaccari si rivolge alla ASLE ospite chiedendo modalità e margini di intervento possibili sul progetto. ASLE RM2 ritiene il progetto buono. Esprime riserve per il timore di creare una domanda a cui non poter dare una risposta per una questione di carenza di risorse. Ipotizza l'individuazione e la selezione di casi isolati che possano essere indirizzati presso l'ente. Considera con rammarico che da due anni si parla della figura dello psicologo di distretto che non si è mai visto e non ritiene, si vedrà anche alla lucidità dei tagli che sembra la regione Lazio stia apportando. L'assessora Laurelli sottolinea l'intenzione di chiedere finanziamenti per lavorare congiuntamente con l'ASLE. Vede con favore la previsione dell'avvio dell'anno nuovo con un tavolo su giovani tra municipio, ordine degli psicologi e distretto ASLE. Conferma l'impegno di consiglio e giunta nel portare avanti il progetto affinché diventi un servizio dotato di una struttura avanzando una richiesta di fondi nel 2024 per fare step successivo indicato all'ordine e ai suoi colleghi. La Presidente Vaccari segnala un crescente interesse sul tema proveniente anche da comitati di quartiere. L'ordine sottolinea che occorre eliminare lo stigma su un fenomeno spaventoso che rappresenta la seconda causa di morte tra i giovani. Fondamentale è fare prevenzione perché si parli di suicidio e malessere e si possa dare una panoramica dei servizi a disposizione. L'ASLE propone una riunione tra i soggetti coinvolti in un piccolo tavolo di lavoro che può essere spostato sul piano socialo municipale. La Presidente Vaccari ipotizza il coinvolgimento dei CSA anziani in supporto dei genitori e soprattutto della consulta dei giovani. L'assessora Tranquilli concorda con il coinvolgimento della consulta dei giovani appena costituita e propone un incontro informale con i neoeletti per verificare possibilità di sinergie nell'utilizzo attivo della piattaforma. Aggiunge che il municipio ha partecipato al bando benessere psicologico insieme ad altri municipi di Roma e che questa partecipazione possa rappresentare un canale per avviare una rete di soggetti attivi in progetti su questi temi. NT accoglie lo spunto sottolineando che lo strumento della piattaforma può contribuire a condividere tutti i progetti che ogni stakeholder sta portando avanti per dare visibilità condivisa di ciascun progetto intrapreso per una visione panoramica dei servizi di riferimento esistenti sul territorio. Una psicologa clinica nonché consigliera del comitato di quartiere Eur Castellaccio in qualità di referente dei genitori dell'istituto la scuola Leonardo da Vinci esprime grande coinvolgimento e interesse per il progetto mostrato dai genitori e familiari scossi dalla recente vicenda rispetto alla mappatura dei servizi ritiene opportuno consentire di avere informazioni attraverso la locandina del lab territoriale e sottolinea il ruolo anche dei comitati di quartiere come anello di congiunzione tra municipio e Asle. Asle e Roma 2 conferma l'impegno ad organizzare un incontro con i servizi e l'ordine per verificare le risorse che si possono mettere in campo. La Presidente Vaccari e il Vicepresidente Vicario tirano le fira comunicando l'intenzione di lavorare nell'elaborazione di un atto da presentare in consiglio per dare mandato alla Giunta di attivarsi affinché il progetto possa proseguire anche dopo dicembre e verificare d'accordo con quattro sostenuto dalla Sessora Laurelli una riattivazione del piano sociale e una richiesta di maggiori fondi sul tema. La Commissione congeda gli ospiti e rimanda alla prossima seduta esame del primo punto all'ordine del giorno un'approvazione verbale del 10-10-2023. Per me va bene. Non so se c'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa. Anche per me va bene. Allora diamo per approvato anche questo. Io credo che prendo spunto da questo verbale per dire che probabilmente noi come Commissione Pari Opportunità magari insieme alla Commissione Servizi Sociali potremmo elaborare un documento, un ordine del giorno da presentare in consiglio proprio durante il bilancio. Però questo poi magari lo vediamo insieme. Successivamente magari butto giù due righe insieme alla Presidente De Vivo. Se non ci sono altre cose io passerei a questo punto, darei per approvato anche quest'ultimo verbale così ce li siamo tolti tutti e direi di passare al secondo punto all'ordine del giorno. Allora per il secondo punto all'ordine del giorno io darei la parola al consigliere Angelini perché è stato lui che un po' mi ha appungolato sulla possibilità e l'opportunità di istituire questi registri di autodeterminazione di genere. Quindi vorrei, lascerei la parola a lui per raccontarci un po' di quello che ha in mente e di come eventualmente, di quello che ovviamente ha verificato e di come possiamo gestirlo noi in Commissione. Grazie, prego Angelini. Sì, grazie Presidente. Allora, però la prenderò larga così facciamo tutti i ragionamenti del caso. A Bologna nei mesi scorsi, ora precisamente il mese non me lo ricordo anche perché è poco importante, è stata istituita la carriera alias. La carriera alias per i dipendenti degli uffici pubblici e degli enti pubblici e associazioni e tutto quello che lavora nel contesto dell'amministrazione pubblica di Bologna. La carriera alias sostanzialmente è una identificazione tramite un documento di autodeterminazione, insomma dove viene auto, insomma l'individuo si autodetermina definendo un nuovo nome per se stesso all'interno del contesto anagrafico che si collega al nome segnato nella parte anagrafica e diventa sostanzialmente il nome utilizzato all'interno della documentazione dentro gli uffici pubblici e di abbonamenti o altri tipi di carte di identificazione, non la carta d'identità ma carte d'identificazione come possono essere per esempio la carta della TPR che è l'azienda dei trasporti pubblici di Bologna come anche le biblioteche pubbliche e così via. La carriera alias nasce con l'idea di permettere la possibilità di scegliere un nuovo nome per le figure transessuali e no binary che non riconoscendosi nel genere in cui sono nate e che quindi stanno svolgendo o un determinato percorso o più specificatamente vogliono riconoscersi in un altro tipo di genere e quindi anche definire quello che il loro vecchio nome come in gergo nel mondo LGBT viene chiamato death name, nome morto, con l'aggiunta di questo nuovo nome. È un percorso diverso da quello del cambio del nome, soprattutto perché il cambio del nome, meno del cambio del cognome ma comunque pretende giustamente una serie di motivazioni che devono essere vagliate. Da noi viene vagliata la prefettura, penso anche a Bologna, adesso a livello tecnico non saprei addentrarmi troppo, però c'è un percorso molto specifico. Qui c'è un documento dove tramite un'autodeterminazione che viene acquisita senza determinati documenti che andremo poi ad analizzare più avanti, viene acquisita e semplicemente viene dato il nuovo nome e quindi la carriera alias. Il progetto originario nasce a Bologna, intendo, poi non so se ci sono, non ne ho trovati per ora progetti che stanno in altre parti d'Italia, magari me li sono persi io, però il progetto originario nasce nell'Università di Bologna. L'Unibo, prima del Comune di Bologna, mesi prima, aveva avviato questo tipo di procedura. Quindi tutti gli studenti dell'Università di Bologna che, transessuali, no binary, quindi che non riconoscendosi con la loro identità di genere e di origine nascita, potevano richiedere una carriera alias, quindi un nome che si univa al nome anagrafico originale, che sostituiva definitivamente su tutte le documentazioni dell'Università il nome e che per motivi di privacy non era possibile neanche raggiungere il nome originale, a meno ovviamente degli uffici specifici, quindi sia sul libretto universitario, tanto quanto sulla mail universitaria, su tutte le documentazioni che riguardano tutta l'Università, tutto con il nome della carriera alias. Il Comune di Bologna ha fatto suo questo progetto e l'ha provato a inserire all'interno del contesto amministrativo e ha fatto in modo tale che sostanzialmente, dopo una serie di discussioni… Lorenzo, scusa un attimo perché ho visto che è stata bloccata la trascrizione, non ho capito Manuela, mi era apparso una cosa, siamo ancora in registrazione, sì? Sì, sì, Presidente, siamo in registrazione e stavo togliendo la trascrizione in lingua inglese. Ah, ok, ok, perché apparsa questa cosa, pensavo che fosse bloccata la trascrizione. Prego, Angelini, scusi. No, vedi che, anzi, potremmo farlo in maniera un po' più internazionale con la trascrizione inglese, ma sarebbe stato interessante. No, vabbè, sostanzialmente il Comune di Bologna quindi fa suo questo progetto e lo porta all'interno del, per ora almeno, all'interno del contesto di tutti gli uffici pubblici. Quindi tutti i dipendenti pubblici che riguardano l'amministrazione comunale, le associazioni, tutto quello che collabora all'interno del pubblico, possono richiedere, se ne hanno l'intenzione e c'è la motivazione, sostanzialmente la carriera alias. Quindi l'idea, il motivo per cui, letta la notizia, l'avamo letta io, poi anche la Presidente, insomma, letta la notizia, abbiamo detto che poteva essere un buon tema d'argomento da portare qua perché è un tema soprattutto poco trattato, ma che in strada un percorso che in realtà dovrebbe essere molto più, che dovrebbe essere, che dovremmo rendere molto più naturale. Quindi l'autodeterminazione che viene degli individui, che viene svolta attraverso il nome, come lo è anche, per esempio, il discorso del cognome, ma quello è un altro discorso a parte, come l'autodeterminazione che si avviene individualmente attraverso il nome. Il percorso naturale che dovrebbe assumere questa cosa e che, secondo me, dovremmo riuscire a fare un lavoro più, ovviamente, da caratteristiche più comunali, riguarda tutto il discorso dell'anagrafico e riuscire a collegare o a sostituire determinati nomi per questioni, appunto, di genere, di cambiamento di genere, eccetera, eccetera, con un meccanismo molto più veloce e soprattutto automatico, per virgolette. Tutto questo avviene, ovviamente, prima che la transizione, per esempio, nei casi di individui transessuali, venga completata, perché ovviamente, come lo spiega anche nei documenti dell'Università di Bologna, che ha avuto modo poi di essere stata chiamata anche nella Commissione per l'opportunità di Bologna, ha spiegato che, appunto, il nome viene utilizzato come sostitutivo temporaneo, quindi non sostituisce completamente subito, per tutto l'anno accademico, a meno che in mezzo all'anno accademico l'individuo, cambiando genere, a quel punto ha automaticamente tutti i cambi anche a livello anagrafico che gli permettono quindi di reinserire il nome, eccetera, eccetera. Il tema in sé è abbastanza sensibile, più che altro perché riguarda tutto un livello di sensibilità e di lato dell'individuo che bisogna avere un po' di tatto empatico per cercare un attimo di parlarne e soprattutto di coinvolgere anche questa parte, perché la mancanza di una identificazione personale sul genere di nascita o un altro genere è un enorme percorso psicologico che viene fatto e che quindi anche l'ostacolo che sembra più piccolo, come quello del nome, assume in realtà una potenza emotiva non scontata. Quindi l'esigenza che ha voluto portare avanti il Comune di Bologna, come anche l'Università di Bologna, è stato dare un aiuto da questo punto di vista e dire se hai bisogno e c'è la possibilità, la possibilità facciamolo senza che tu debba mantenere questa situazione, anche perché molte figure, molte persone transessuali, spesso è capitato anche di conoscerne direttamente, oltre che dati e articoli in sé, si presentano con un altro nome perché appunto identificano il loro cambio con anche un altro nome. Ora, io non posso prendere, ovviamente non mi posso assumere la responsabilità di parlare per una comunità intera che ha determinati obiettivi sicuramente riguardo il proprio percorso, quindi sarà un tema che magari andremo a affrontare più avanti. Però l'idea che intanto volevo portare e intanto discutere per poi fare anche altre commissioni, ovviamente è un discorso più lungo, era quella di provare a far, a emulare la situazione che è successa a Bologna anche nel municipio 9, e parlo di municipio non di comune appositamente, nel municipio 9 in maniera ovviamente diversa, cioè nel senso per quello che potrebbe riguardare i nostri obiettivi. Ora, è vero che tutto il contesto anagrafico per quanto riguarda il discorso dell'identificazione, quindi nome e cognome e tutta la parte anagrafica e identità è in parte in mano al comune, quindi ovviamente il ragionamento è parallelo, però la gestione, tutto l'apparato anagrafico riguarda anche il municipio. La proposta che volevo fare io era questa, oltre a discuterne adesso ovviamente in ambito più politico, quindi ragionando anche tra noi in discussione anche cosa se ne pensa e quali sono i punti di forza o meno, era quella di magari ragionare in una seconda battuta richiamando all'interno della commissione, oltre ad associazioni che si occupano di tutte le esigenze del mondo transessuale, eccetera, eccetera, quindi per poter parlare loro, quindi in figura diretta, quali potrebbero essere i benefici o i malifici, attenzione perché ovviamente questi sono obiettivi che portano a, secondo me a dei risultati, ma io assumo da sguardo esterno empatico e assumo una difficoltà come la mia, però ovviamente è più sano che venga anche chi con la difficoltà la vive direttamente a parlarne, insieme a quelli che sono gli uffici anagrafici nostri e anche le figure che amministrative dell'amministrazione in Bologna hanno portato avanti questo tipo di attività, cercando di ragionare su come costruirla all'interno del municipio, perché questo? Perché sicuramente secondo me questo passaggio che è stato fatto al Comune di Bologna, quindi fare in modo tale che all'interno di tutti gli uffici pubblici, di tutte le partecipate, eccetera, eccetera, si possa costruire e quindi fare in modo tale che venga inserita la carriera alias all'interno di quello che è il contesto amministrativo del municipio 9, non è impossibile, semplice, penso sia un lavoro anche relativamente lasciato in basso al termine, semplice. L'obiettivo secondo me che dovremmo raggiungere con un po' più di spirito di raggiungere la vetta è quello di fare in modo tale che questo venga svolto sui cittadini, cioè nel senso io assumo la responsabilità come ufficio anagrafico di costruire quello che poi hanno iniziato a fare al Comune di Bologna proprio partendo, per questo dico secondo me è una parte del lavoro perché andrà sicuramente ad ingrandire, però costruendo quello che è un registro di genere dove i nomi della carriera alias corrispondono ai nomi identificativi dell'anagrafe originali del soggetto che richiede la carriera alias, che quindi sostanzialmente a livello legale di identificazione corrispondono e viene fatta corrispondere il nome e l'identità. Questo ci porta, supponendo questa creazione di questo registro di genere, ci porta alla possibilità di ragionare, di poter fare noi un registro di genere all'interno di quello del Municipio 9 per collegare per i cittadini e non solo per la pubblica amministrazione, quindi riguardando tutti quelli che riguardano i cittadini del 9o Municipio, per fare una carriera alias che riguarda tutti quanti e quindi costruendo un registro di genere che poi va ad applicarsi questa cosa. Secondo me il lavoro non è scontato a livello di importanza, dal punto di vista morale per me è un grande livello, ma per me ovviamente parlo di difficoltà perché in realtà la situazione della richiesta carriera alias sicuramente c'è esigenza, però sicuramente è un lavoro iniziale che non dovrebbe portare un'enorme quantità di difficoltà perché tanti richiedenti, ma sicuramente un buon numero che però può essere soggetto a un controllo di quello che è tutta l'amministrazione municipale. Questo ovviamente nei limiti di tutti i poteri o no che il Municipio assume, cercando anche, e qui lo dico anche rischiando un po' il linciaggio, cercando anche di assumerci magari qualcosa in più di quello che magari il Comune già assume. Questo non perché dobbiamo assumerci dei poteri che non abbiamo, però allo stesso tempo dobbiamo anche renderci conto che è vero che parliamo di centralmente amministrativo, oggi il Consiglio diceva, il Consigliere ci risolva se non sbaglio, diceva perché non l'avete ancora fatto, è un tema su cui sono anche d'accordo a un punto di vista politico sul fatto che ancora non è stato portato a termine, allora dico assumiamoci determinate responsabilità noi come Municipio e quindi a quel punto viene obbligatoriamente riportata il tema sulle responsabilità delle attività. Tutto questo discorso si conclude sostanzialmente semplicemente dicendo che idealmente costruendo dei registri di genere che compongano l'autodeterminazione dell'individuo, possiamo permetterci secondo me di pensarlo un po' più in grande e ragionare sulla possibilità di costruire delle carriere alias all'interno di tutto il nono municipio e quindi di tutto quello che riguarda tutti i cittadini del nono municipio. Poi ovviamente questo può essere un tema e qui porto l'altro punto che presupponendo di poter tentare di essere i primi tra virgolette ad assumerci questa possibilità e questa responsabilità possiamo anche fare un po' a catena con gli altri municipi, oltre che con le commissioni pari al portino ad altri municipi ma anche col comune stesso, cioè dire noi abbiamo portato davanti qualcosa, questa è la costruzione, questo è quanto al risultato, ragioniamo affinché venga costituito a livello comunale e quindi tutta Roma, in modo tale che a quel punto il ragionamento ovviamente si ampia. Quindi sostanzialmente la mia proposta è questa qui. Prossima commissione, potrebbe essere interessante fare una commissione di discussione con le persone che sono state sostanzialmente promotrici di questa cosa, quindi da Bologna, oltre a consiglieri di Bologna sarebbe interessante anche chiamare l'Università di Bologna se ha le possibilità e l'intenzione di venirne a parlare, a meno che non bastano i verbali delle commissioni di pari opportunità del Comune di Bologna, delle associazioni che si occupano del tema e che quindi possono anche darci una linea un po' più realistica, tra virgolette la parola, non perché stiamo parlando di qualcosa di realistico, ma più pratico forse, e anche per quanto riguarda tutto il discorso dell'ufficio anagrafico. Poi se uno volesse fare un discorso molto più ampio, che però secondo me arriverà a un secondo momento dopo il tema di discussione, dopo una serie di cose, il coinvolgimento anche delle compartecipate, delle municipalizzate, eccetera eccetera eccetera, perché a quel punto a caduta il ragionamento si va ad applicare poi anche su abbonamenti autobus, abbonamenti delle biblioteche di Roma, poi da lì a caduta si può fare un ragionamento più completo. Sostanzialmente questo, non ho buttato giù niente a livello di scrittura roba, anche perché sarebbe più interessante farne prima un ragionamento con i soggetti prima citati, insomma. E penso di essermi dimenticato nulla, perché ho gli appunti qua, quindi questo. Vedo già delle mani alzate, quindi lascio la parola, Presidente. Grazie Lorenzo, soprattutto per la spiegazione molto dettagliata, per quanto chiaramente come primo approccio. Ricordo che tra gli invitati che potremmo far venire, noi abbiamo sempre la delegata del sindaco sui temi LBGT+, che è Marilella Grassadonia, quindi potremmo assolutamente coinvolgerla anche in questo discorso. Oltre ovviamente coloro i quali hanno già intrapreso un percorso, sebbene comunale e non municipale, a Bologna. Io a questo punto lascerei la parola a Giulia, prego Giulia che ha alzato la mano, e poi a Laura Pasetti. Grazie Presidente. Io intanto volevo ringraziare il consigliere Angelini, perché ha portato avanti e si è informato, ha lavorato su una tematica che anch'io avevo portato all'attenzione di questa commissione prima della chiusura delle vacanze estive, quindi grazie per il lavoro svolto e per tutto quello che ci ha relazionato oggi. Dicevo appunto, io conosco in qualche modo così da lontano questa tematica, questa scelta che è stata fatta a Bologna e che era già stata intrapresa sia a Milano sia a Lecce, quindi appunto questo per quanto riguarda il registro di genere. Per quanto riguarda la carriera alias, da quello che so, anche la Sapienza dal 2023 ha iniziato questo percorso, quindi i ragazzi e le ragazze che non sono cisgender possono richiedere appunto l'introduzione nella loro carriera accademica, nel libretto degli esami e quant'altro, del loro nome di elezione e penso sia un contatto che, io non ho contatti con la Sapienza, però essendo una realtà romana potremmo anche andare a chiedere informazioni lì, perché potremmo appunto fare lo stesso lavoro che è stato fatto a Bologna, che sono partiti dall'università per spostarsi poi all'interno del comune. Quindi sono d'accordo su tutto quello che ha detto Lorenzo Angelini, sono assolutamente d'accordo a intraprendere la discussione per quanto riguarda questo argomento. L'unica cosa che volevo dire è che purtroppo sia a Milano sia a Lecce Bologna è un pochino più nuova, di nuova istituzione, quindi diciamo più recente. Questa del registro di genere è stata un'ottima iniziativa di propulsione per far anche conoscere quello che si sono i diritti e le necessità delle persone trasgendere, in particolare, ma comunque del mondo LGBT+. Però purtroppo a distanza di qualche anno si è visto che era comunque una bella idea, una cosa che comunque è stata fatta, c'è questo registro, ci sono queste persone iscritte, ma purtroppo non si è riusciti a utilizzare completamente le potenzialità di questa iniziativa, perché poi di fatto per molte cose il nome, il dead name, veniva comunque riscritto, veniva comunque ricordato, quindi non si è riuscito ad utilizzare a pieno quello che è il nome di elezione di queste persone trans e quindi si è arrivati all'obiettivo, ma non fino in fondo, si potrebbe e si dovrebbe fare di più. È come se fosse stato costruito un contenitore molto utile, molto bello, ma che poi è stato riempito di poco, non c'è stata la possibilità di arrivare fino in fondo, perché in realtà quello che servirebbe è una legge nazionale. Però quello che voglio dire è che se tutti i comuni o se molti comuni iniziano a costruire queste scatole, possiamo dire, ecco che poi la spinta propulsa, la spinta insomma al cambiamento viene appunto dai comuni verso le istituzioni centrali, quindi verso il Parlamento, verso il governo. E questo è quello che secondo me anche noi dovremmo fare come municipio, nel senso che il municipio non è l'organo centrale, non è il comune e quindi documenti prettamente municipali non ci sono, è difficile utilizzare il nome di elezione. E quindi secondo me noi dovremmo essere quelli che comunque, il nostro municipio dovrebbe essere quello diciamo un po' pilota, che comincia a costruire questa idea, insomma questo registro, che poi per ora magari rimane solamente un elenco, che però se poi riusciamo a portarlo a livello comunale, quindi molto utile sarebbe appunto fare una commissione anche magari con la commissione per opportunità del comune, perché chiaramente poi una volta che invece questa cosa diventa comunale, ecco che almeno un pochino di più può essere veramente utile, può essere veramente utilizzata. E poi quello che dicevo appunto, se tutti i comuni cominciano a sensibilizzarsi a questi temi, ad utilizzare questo registro di genere, magari possiamo anche arrivare a cambiare qualcosa a livello governativo e a fare una legge che veramente poi riconosce i diritti delle persone transgender. Ho concluso, grazie. Grazie Giulia, ricordo che questa modalità fu fatta anche per le unioni civili, anche per il registro dei donatori di organi, tutto questo era partito dai territori e quindi perché no, non essere noi uno dei municidi pilota proprio su questo tema. La parola a Laura Pasetti. Grazie Presidente. Allora, intanto vi do una bella notizia, saprete senz'altro che è ironico, gli Stati Uniti hanno emesso i primi passaporti di genere neutro, che vuol dire le maschioni e femmine, quindi sono passaporti che si possono utilizzare appunto con questo nuovo genere. Volevo dire una cosa, rispetto invece allo status di autoderminazione. Allora, questo status evidentemente viene costruito in modo indipendente dal sesso, quindi si nasce in un modo ma non è detto che ci si senta in quel modo, quindi diventa totalmente indipendente dal sesso, forse più appartenente alla psiche che alla natura, in questo caso, a quello che la natura ci ha dato. Ma questo vuol dire però, si ricollega tutto al fatto dell'istituzione del registro, che il genere diventa un, come lo possiamo chiamare, è fluttuante, è un artificio fluttuante. Perché? Perché quello che io sono oggi, domani potrei non esserlo più, io oggi sono Laura, domani potrei invece sentirmi meglio come Francesco e quindi chiedere un'autodeterminazione e chiedere di essere iscritta in un registro. Allora, le mie domande sono due. La prima, il registro così come è concepito, infatti a Napoli, a Milano è fallito, mi sa tanto di discriminazione, cioè qual è la motivazione di dover iscrivere in un registro le persone che seppur volontariamente decidono di cambiare sesso, non sesso, cambiare genere, diciamo cambiare genere, pertanto il sesso qui salta completamente come concetto. Quindi il fatto di essere iscritta in un registro lo trovo, per quello che mi riguarda, discriminante. La seconda cosa che volevo dire, proprio perché si tratta di un genere che può essere ed è fluttuante, chi è iscritto oggi potrebbe non volerlo più essere domani o chiunque potrebbe iscriversi per un po' e poi non esserlo più. In sostanza quello che voglio dire è che si tratta di una materia abbastanza indeterminata, è ancora molto da studiare, ma senz'altro indeterminata, per cui volerla incasellare a tutti i costi in qualcosa, solo perché poi magari abbiamo l'abbonamento dell'autobus con scritto il mio nuovo nome, perché questo mi pare di capire che debba essere poi la finalità, oppure l'alias nelle scuole. francamente io lo trovo abbastanza prematuro e per quello che mi riguarda anche abbastanza inconcepibile. Quindi se c'è qualcuno che mi può dare una risposta precisa sulla motivazione di dover creare addirittura un registro, perché poi nella libertà assoluta ognuno fa esattamente quello che vuole di se stesso, però questo fatto di scriverlo in un registro francamente mi sembra esageratamente discriminante. Ho terminato, Presidente. Grazie Laura, vedo la mano alzata di Lorenzo. Sì, giusto per rispondere alla domanda. Allora, la costituzione di un registro non nasce con il presupposto di tenere sotto controllo chi fa il passaggio, ma serve a non fare la modifica anagrafica completa nel momento in cui il passaggio di genere non è completo. Quindi io non posso identificarti in un altro genere se il tuo genere da un punto di vista clinico e quindi anche legale non è ufficialmente un altro. Quindi il registro mi serve a me, per fare in modo tale a me o amministrazione, di collegare che Lorenzo Angelini è, nella parte identificativa dei vari documenti che vengono emessi, è quest'altra persona. Quindi io riconosco la presenza di un altro nome che si ricollega a quello là e di fatti i registri sono, almeno per quanto riguarda il discorso soprattutto del mondo transessuale, sono temporanei. Cioè io entro all'interno del contesto del registro al momento in cui inizio il percorso e poi completato il percorso, a quel punto l'identificazione passa direttamente per l'anagrafe e quindi io cambio definitivamente nome. E allora facendo così io posso fare in modo tale che prematuramente inizio a costruire, prematuramente il termine forse il più sbagliato mi è venuto perché l'ha detto lei se consiglierebbe. Insomma in anticipo inizia a costruire un percorso affinché chi assume l'intenzione di voler cambiare genere, a quel punto può avere la possibilità di non dover subire il proprio nome di nascita costantemente, ma poterlo mettere ed inserire all'interno di tutto un contesto identificativo che riguarda il nostro quotidiano. Io personalmente ho cambiato cognome e quando ho cambiato cognome non c'era nessuna motivazione pratica per chi lo facessi, era una motivazione puramente personale, individuale ed emotiva legata a un percorso mio di vita e avere quel cognome anche sulla carta della tessera dell'autobus per me era una roba che non poteva esistere. Questo presupposto che è un altro discorso ma che fa comprendere all'origine il motivo per cui tante persone del mondo transessuale presentano la volontà di avere un altro nome, perché a livello emotivo è un blocco importante che si cerca di superare e che se l'amministrazione va incontro a queste difficoltà in fondo non fa nient'altro che del bene per chi lo subisce. Presupponendo un altro discorso però, che io non sono propriamente d'accordo e spiego anche il perché, ok, aspetta sto cercando di abbassare la mano senza successo. Allora, il mito, troppichetto la parola mito, c'è di passare il termine, della una mattina mi sveglio uomo, una notte vado a dormire donna, non è propriamente così, nel senso che il percorso che viene svolto per la transizione e quindi poi lo sviluppo che porta alla fine di tutto il percorso al cambio di genere è un percorso che svolge anche degli obblighi di seduta psicologica. Quindi le figure che svolgono questo percorso devono obbligatoriamente precedentemente comprendere con se stessi qual è il motivo per cui si arriva a quel punto lì e quindi se poi quel punto lì è un percorso valido o no. Ma questo qui però è un discorso che secondo me non è, non riguarda noi, cioè nel senso riguarda chi, il soggetto che vive questo problema, riguarda noi nel limite e nel discorso che ci occupa sul discorso amministrativo, però a noi il discorso amministrativo poi viene meno nel momento in cui semplicemente l'identificazione rimane la stessa, ma è l'individuo soggetto che può scegliere di potersi identificare in un altro modo. Su questo è ovvio che da un lato comprendo il senso del discorso, del fatto che viene a sminuire il discorso di genere da un punto di vista morale e culturale, però è anche vero che il percorso che sta avendo la società è questo e che sta assumendo e sta dimostrando una serie di esigenze che prima non venivano proprio neanche mostrate o dimostrate e quindi ovviamente non è una, secondo me lì non viene sminuito la parte, la questione di genere inteso dell'identificazione, ma viene maggiormente riconosciuta perché nel momento in cui io so di potermi identificare in qualcos'altro perché posso effettivamente formi questa domanda perché ora la società può accettare questa cosa, io posso fare anche un percorso psicologico per comprendere la mia identificazione di genere e quindi riesco a capire se sono effettivamente e rientro effettivamente nel panorama cisgender e quindi mi riconosco in un uomo, io alla figura di uomo do più valore di prima e non perché ci sono semplicemente nato, mi do valore perché l'ho anche scelta, tra virgolette la parola, nel senso mi sono posto anche la domanda possibile se mi identifico o no, proprio perché c'è la possibilità di farlo e quindi il contesto amministrativo questo dovrebbe aiutare a fare in modo tale che ci sia questo step finale che porti poi a dire non sono solo, sola, cioè sono in un contesto che mi può aiutare. Poi sul discorso del passaporto neutro secondo me è sicuramente un tema di discussione che è interessante più che altro perché mi viene da sorridere perché comunque si trova una soluzione che in realtà non è tale poi alla fine perché anche lì il discorso è l'identificazione, cioè questi registri si parla di identificazione in qualcos'altro e quindi in qualcun altro, quindi in un altro genere e non alla non identificazione perché anche lì poi dopo si apre un altro discorso che però non saprei a questo punto non saprei sciogliere perché probabilmente ci sono persone che hanno molta più competenza e soprattutto molto più percorso individuale per poterlo spiegare. Detto tutto questo discorso mio personale, il motivo per cui secondo me vanno chiamate le figure amministrative che hanno messo in piedi tutto il lavoro a Bologna e quando ho parlato con alcuni consiglieri di Bologna mi hanno proposto anche che oltre a loro potessero venire anche le PO o i PO o comunque le figure che stanno all'anagrafico di Bologna per spiegare come viene fatto perché poi lì sorge la domanda su cui io sono d'accordo con la consigliera Pasetti da un punto di vista di chi può richiederlo, non è che io la mattina mi sveglio, arrivo, mando una mail all'ufficio anagrafico, faccio guarda mi serve la carriera alias per una settimana, no, cioè deve stare una motivazione come io l'ho dovuta dare, la motivazione quando ho cambiato cognome la motivazione deve esserci e ovviamente il discorso qual è? Io facilito il lavoro e soprattutto lo attivo già perché io non posso cambiare nome, assumermi il nome di una femminile adesso perché ovviamente la prefettura e tutti gli altri organi che controllano questa roba mi chiedono delle motivazioni che io non posso dare proprio perché ha oggettivamente la mia identificazione sessuale corrisponde a quella di genere e allora lì cade la mia richiesta la carriera alias che permette di fare in modo tale che la mia richiesta presupponendo di avere motivazioni valide che a questo punto è la domanda è quali sono le motivazioni che l'ufficio anagrafico di Bologna assume come valide allora lì perché le motivazioni potrebbero essere potrebbero venire l'ufficio anagrafico di Bologna e dirci guarda a chiunque ci mandano a me gli diamo la carriera alias oppure potrebbe anche dire mi devono dare un referto psicologico un attestato di transizione medica un inizio di assunzione di 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 medicinali ormonali cioè qual è la il parametro perché ovvio che poi il registro deve essere anche ragionato perché non è che possiamo fare ovviamente un perché poi lì diventa un problema a livello che attenzione secondo me lì non diventa un problema a livello morale o culturale nel senso che uno si sveglia la mattina uomo la notte donna a me personalmente come individuo non me ne frega niente va benissimo ognuno è libero ma il problema è poi pratico no cioè nel senso all'anagrafe poi si deve assumere un lavoro che che diventa quintuplo quindi la la decisione di come inserire all'interno di questo registro che ripeto secondo me non non è discriminatorio nel momento in cui ha una funzione che è temporanea per fare in modo tale che io possa identificarti con lo stesso nome con un altro nome però collegato al precedente nome sostanzialmente cioè a me il registro non serve per sapere chi sei e per mettere la stellina fuori dalla porta a me il registro serve per fare in modo tale che io ti possa dare tutti i documenti che di cui tu hai bisogno e vuoi avere con il tuo nuovo nome ma affinché io come amministrazione possa riconoscerti perché se si parla di una perché poi se vogliamo fare un discorso molto più grande e molto più interessante che ovviamente non può riguardare una commissione di un municipio di roma il discorso poi dovrebbe andare sulle carte di identità e allora lì ti dico le carte di identità carriera alias allora lì diventa però proprio per quello che il registro nasce poi sono d'accordo con la consigliera marocchini il i registri che sono stati fatti fino adesso non sono non hanno perché la parola falliti secondo me o comunque non hanno funzionato non è totalmente esatto è giusto dire che non ha non sono stati sfruttati a dovere al punto tale che alla fine sono caduti tra virgolette la parola caduti nel dimenticatoio quando invece poi potevano essere sfruttati in tutt'altra maniera come per esempio sono stati sfruttati a bologna non sapevo dell'università della sapienza sono molto contento di saperlo e anzi questo è un ottimo spunto per decidere anche di chiamare invece che l'università di bologna che li chiami da 500 chilometri li chiami da dietro casa per parlare anche della della loro della loro tipo di attività anche perché il funcione a bologna si è dimostrata un'attività oltre che secondo me onorevole funzionale all'obiettivo e effettivamente il funzionamento l'ha avuto e e se questo è potuto essere stato possibile l'interno università di un contesto più piccolo ma che comunque comprende un movimento alla base molto importante è interessante comunque riuscirlo ad applicare anche dentro dentro gli uffici amministrativi anche perché poi qui si entra all'interno un discorso del fatto che non sempre ma la gran parte delle volte quello che succede all'interno università è un anticipo di quello che dovrà succedere nel mondo poi perché ci sta una movimentazione giovanile che ovviamente porta avanti determinati temi che nel mondo fuori data la contesto anagrafico che cambia e varia in base alle esigenze viene ascoltato anche più tardi quindi in realtà qui sarebbe anche apprendere una cosa prima di e farla comprendere da subito e non so se ho risposto alla domanda sì grazie lorenzo ho capito perfettamente devo sono 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 d'accordo su alcune motivazioni in realtà continuo a pensare che non essendo più necessariamente legato a questo cambio di identità ad un cambio proprio fisico quindi di cambio di sesso questa cosa si presta secondo me a moltissime a moltissime attività che non che possono non riguardare veramente la necessità della persona potrebbe essere molto strumentalizzato io ne ho molta paura devo dire la verità conosco anche personalmente un paio di persone che si sono svegliate una mattina con figli e quant'altro si sono svegliate che dicendo che comunque loro non si sentivano più di essere quello che erano che avrebbero voluto essere altro di fatto nelle dimostrazioni erano altro salvo poi dopo un po di mesi però pentirsi per dire no però la mia coscienza però la famiglia però i figli però mia moglie allora tutto questo secondo me potrebbe essere pericoloso perché non ha dei riferimenti particolari che siano fissati se non magari un referto medico un referto psicologico e secondo me è troppo labile troppo debole chiedere un referto psicologico per essere certi che poi effettivamente non ci sia un cambio in corsa inoltre poi penso ai ragazzi penso alla destabilizzazione dei ragazzi che con questa novità dato che i nostri ragazzi ormai queste future generazioni non hanno neanche un riferimento io penso che potrebbero anche essere destabilizzati anche pesantemente no al di là della buona della della buona fede voglio dire perché Lorenzo pensa sempre che io ragiono comunque in buona fede non in attacco però poi penso a quei ragazzi che tutto sommato si trovino di fronte una possibilità x di essere qualcos'altro quindi di aderire per esempio alla campana carriera alias e di destabilizzarsi ancora di più e oggi sappiamo che le generazioni sono molto fragili psicologicamente perché non hanno riferimenti non hanno curiosità non hanno non hanno interesse non hanno nulla quindi adesso gli togliamo l'identità e se l'identità vacilla perché non è più collegata all'aspetto fisico ma viene collegata ad una cosa attenente più la sfera psichica secondo me rischiamo di fare dei grandi danni ripeto questo è il mio parere personale dopodiché la società sta andando in quella direzione questo è un fatto non è inequivocabile è inequivocabile concordo sul fatto che il passaporto di genere neutro sia assolutamente pericoloso non non ne trovo nessuna motivazione anche perché non si parla di essere qualcun altro da quello che ho letto si parla di essere anche qualcos'altro quindi non necessariamente un essere umano quindi detto questo poi insomma c'è poco più da aggiungere ma nel campo della della dell'assurdo diciamo così volendo ragionare invece rimanendo con i piedi per terra secondo me effettivamente il registro potrebbe essere una cosa soggetta a strumentalizzazioni e tutta questa libertà diciamo nel cambio di genere potrebbe essere destabilizzante per i giovani terminato grazie grazie Laura se permettete faccio anch'io un intervento innanzitutto noi abbiamo anzi Lorenzo e che ringrazio ancora per l'interesse ha preso delle informazioni diciamo passatemi il termine un po' sommarie anche perché noi dobbiamo entrare all'interno di quello che sarà eventualmente e quello che è già stato fatto per prendere ad esempio Bologna con quali modalità ci si può iscrivere ad un registro non così sicuramente non così facilmente come noi pensiamo adesso un po' come ha detto Laura prima non è che una mattina mi sveglio e mi sento uomo quindi vado al municipio e chiedo di essere Paolo e non più Paola io immagino che coloro i quali decidono di rivolgersi all'iscrizione e fare l'iscrizione a questa tipologia di registri sono quelle persone che hanno comunque o iniziato o stanno intraprendendo una transazione una trasformazione poi non è detto che questa trasformazione può essere totale per farvi un esempio io posso diventare un uomo diventare donna ma senza poi l'operazione finale che toglie il pene ad esempio ma avere comunque un aspetto femminile questo probabilmente non mi dà l'opportunità di fare il cambiamento di sesso all'interno del tribunale perché poi il cambiamento di sesso come il cambiamento di cognome quello che ci diceva Lorenzo è un percorso che va fatto non tanto per il cambio di cognome ma quantomeno del cambio del sesso va fatto con determinati iter da seguire e le persone che decidono di fare questo probabilmente sono più che convinti ad andare a fare la transazione e la trasformazione del loro essere però c'è quel momento di limbo da quando io inizio magari i vari trattamenti alla fine di avere la sentenza che mi cambia il nome e il sesso che da paola divento paolo in quel in quel periodo di transazione magari io posso avere delle difficoltà a sentirmi ancora chiamata per con nome femminile o maschile a seconda delle trasformazioni e è semplicemente io credo che sia semplicemente questo ecco perché a questo punto noi dobbiamo invece investire di questo problema a intanto vedendo le varie possibilità di iscrizione che non credo che siano così così facili una documentazione bisognerà pur portarla e la verifica è anche non so capire ad esempio quando è stata fatta è stato istituito questo registro e quanto tempo è passato e quanti poi si sono iscritti cioè fare proprio una valutazione di di quanto eh di quanto tra virgolette occorre punto interrogativo per rispondere un po' a Laura Paesetti di quanto è necessario eh di quanto viene sentito dalla cittadinanza perché non parliamo sempre solo esclusivamente di giovani eh perché eh molti magari eh anche di età più avanzata eh a un certo punto della loro vita decidono o si sentono finalmente liberi di poter dire ciò che sono realmente che magari per un periodo per un lungo periodo hanno dovuto nascondere per paura per eh vergogna per cultura per per una per x motivi allora io eh dico è questo il nostro eh oggi è stato veramente un primo approccio alla tematica eh ma dobbiamo fare sicuramente un approfondimento eh e non solo con le amministrazioni che hanno dato eh già che hanno fatto di questo di quest'idea una una gestione vera e propria ma magari anche sentendo quelle persone che in questo momento si trovano in una frase di transazione magari chiedendo a delle associazioni ehm del mondo LBGT che che cosa ne pensano perché magari noi eh pensiamo che sia una cosa da fare e la comunità LBGT invece non ne sente non ne sente la necessità ne dico cioè le sto buttando così come mi vengono non non abbiamo fatto ulteriori eh approfondimenti cosa che invece dobbiamo fare eh questo è quanto io penso poi non so se c'è qualcun altro che vuole intervenire sul tema mi piacerebbe sentire anche Giorgio visto che lui poi è uno è uno giovane intanto ha alzato la la mano Giulia e poi Lorenzo sì grazie no semplicemente per concludere e per rispondere già risposto benissimo Lorenzo alle perplessità eh di Laura Pasetti che sono giustamente delle perplessità di persone che si eh accostano a questo tema non avendolo vissuto magari sulla propria pelle non conoscendo direttamente ci sta cioè è comprensibile avere delle perplessità e la commissione è anche fatta per parlarne no quindi io diciamo eh vorrei partire da da un fatto il fatto è che oggi eh anche grazie ad un'evoluzione culturale ad una un'apertura degli schemi che c'è stata progressivamente oggi ci troviamo di fronte a molte persone che non si sentono cisgender ossia non si sentono riconosciute eh nell'identità di genere che loro hanno dalla nascita quindi se io sono nata femmina mi sento in realtà maschio ma non è che mi è una consapevolezza che si prende che si acquisisce piano piano può può avvenire prima in età più giovanile in età più avanzata ma è una consapevolezza che si acquisisce che si acquisisce non è tanto un un diventare no? è una una consapevolezza che si 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 ha di se stessi e non è da confondersi con l'attrazione sessuale che invece è un'altra cosa eterosessuale eh omosessuale eccetera quindi questo è il dato di fatto da quale dobbiamo partire e queste persone che sono nate in un sesso che non si sentono appartenere ovviamente alla nascita sono state chiamate con un nome femminile o un nome maschile che però eh il sentirlo ripetere il sentirlo il doverlo anche mostrare quando ti chiedono ehm un documento quando ti chiedono una cosa ehm è ehm è un comunque sempre un ehm posso non so un dolore un disagio brava grazie un disagio eh quindi è è un disagio che e quindi noi ci dobbiamo fare ehm carico eh di questo fatto che c'è e di come poter cercare di alleviare questo disagio e il il istituire questo registro di genere ci consente semplicemente di dare quei documenti con il nome che si è che si è scelto e però poterlo ricollegare anagraficamente a quello originario per insomma identificare quella persona lì quindi diciamo che oltre a magari un piccolo aggravio per quanto riguarda eh il settore amministrativo a livello di mh pericoli per il fatto che non si riesce ad identificare più quella persona che qualcuno lo faccia per convenienza io sinceramente non ne vedo perché che convenienza potrei avere a dire oggi mi chiamo così domani mi chiamo colà quando poi in realtà il registro serve proprio apposta per ricondurre sempre all'identità di quella persona lì quindi non non vedo perché io che non ne sento la necessità perché non ho questo questo problema lo dovrei richiedere cioè questa è la mia è la mia domanda no? Eh quindi non non capisco perché si ha paura che possa eh creare problemi o ai ragazzi giovani in quel discorso lì io non non l'ho capito tanto bene perché comunque eh non è che se diamo la possibilità a chi ha bisogno di un di un determinato supporto togliamo qualcosa a qualcun altro o mettiamo i dubbi a chi quei dubbi non ce l'ha se quei dubbi gli vengono è perché probabilmente il terreno fertile dove ormai ci troviamo che la nostra società odierna fortunatamente per quanto mi riguarda ci consente di avere questi dubbi se ci questi dubbi ci vengono un motivo c'è e non è certo il parlarne eh o restituire il registro di genere anzi secondo me sono possono essere uno strumento per chi eh ovviamente poi deve intraprendere questi percorsi o per chi eh ha questi dubbi che giustamente sono leciti sono naturali non non sono una cosa imposta ecco questo forse quindi io non vedo non vedo se non dal punto di vista amministrativo appunto per un aggravio del del lavoro degli uffici non vedo quale potrebbe essere la controindicazione di istituire questo registro di genere. grazie Giulia tra l'altro eh sappiamo spero che lo sappiate ma è stato istituito uno sportello proprio alle gbt nel nostro municipio ovviamente uno sportello all'aiuto eh psicologico di chi ne fa dei giovani o meno giovani che ne fanno richiesta. Angelini prego. grazie presidente ma in realtà salvo velocissimo solamente per collegarmi a quello che hai detto prima nel senso che secondo me eh proprio perché appunto le informazioni adesso erano giustamente eh sommarie per cercare un attimo di ehm sommarie appunto per cercare un attimo di 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 comprenderle al meglio di fare un focus migliore eh di coinvolgere i soggetti di coinvolgere i soggetti che hanno eh che vivono determinati determinati problemi e che hanno istituito anche queste eh questi registri e queste carriere reali a se modale così da poter comprendere al meglio il funzionamento perché secondo me compreso anche il funzionamento possiamo anche fare un dare un giudizio eh più sostanziale su quello che che il registro in sé eh poi vabbè io sul discorso che ha detto la consigliera Marrocchini mi collego e mi mi sono estremamente d'accordo non mi espongo ulteriormente perché penso che qui poi si raggiunga anche un discorso eh morale personale che quindi non non per quanto se ne possa discutere non penso non penso che neanche sia il luogo per poterlo per poter permettere una 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 discussione che abbia un funzionamento pratico quindi ecco secondo me sicuramente una prossima commissione con tutti i soggetti coinvolti potrebbe essere molto interessante insomma grazie Lorenzo eh Giorgio Bartolelli prego Giorgio non ti sentiamo Giorgio non non ti sentiamo Giorgio non ti sentiamo Giorgio non ti sentiamo Giorgio non ti sentiamo Sì vai Sì ok no sono stato coinvolto in quanto giovane allora io penso che il punto sostanziale in questa situazione sia distinguere il il sesso biologico dall'identità di genere e il fatto è che sono due cose che sicuramente sono legate ma sono anche due cose diverse per cui l'identità di genere può essere legata a un sesso biologico quindi piùложico? può comprendere nessuno dei due sessi biologICO entrambi e dobbiamo porci. appunto il il quesito se un istituzione che sia allo stato il municipio debba river stress in base al sesso biologico in base all'identità di genere e E auspicabilmente penso a entrambe, perché sono entrambe cose che rendono una persona tale, che identificano un essere umano, sia il sesso biologico che può servire per motivi medici, anche banalmente per il fatto se possa procurare o no, ma anche l'identità di genere per la persona che ha scelto di cambiare identità rispetto al suo sesso biologico, perché comunque sono situazioni importanti a livello psicologico. Quindi, secondo me, questa proposta può aiutare a considerare entrambi gli aspetti importanti per identificare una persona come istituzione. Grazie, Giorgio. Non so se c'è qualcun altro che vuole fare qualche altro intervento. Io penso che giustamente, come abbiamo detto, dobbiamo fare un approfondimento su questo. Magari organizziamo meglio una prossima commissione, cercando di mettere insieme un po' di, oltre che di altre informazioni, ma proprio i soggetti, così come abbiamo detto con Lorenzo prima, sia del Comune di Bologna, ma anche la delegata dell'LBGT del Comune. Io sinceramente vorrei capire prima come funziona a Bologna per poi eventualmente fare intervenire anche gli uffici dell'Anagrafico, perché ovviamente anche loro ci devono supportare qualora noi dovessimo andare avanti su questo percorso. Penso che a questo punto, come punto all'ordine del giorno, lo abbiamo ben verificato, ne abbiamo parlato, quindi io questo punto lo concluderei qua, se siete d'accordo. Allora, passerei all'analisi della posta, se ce n'è. No, Presidente, non ho caricato, non c'era posta. Ok, grazie. Allora, io volevo sottoporvi, passiamo quindi al punto delle varie eventuali, volevo sottoporvi un ordine del giorno che penso che io porterò a giovedì prossimo in consiglio, perché ho visto che ci sono degli ordini del giorno e delle emozioni sulla violenza sulle donne. Quindi vorrei chiaramente leggerlo con voi, poi chi lo vuole firmare, magari lo firmeremo direttamente giovedì, tanto lo collegheremo ad uno degli ordini del giorno contro la violenza sulle donne, e quindi io vi condivido, aspetta un attimo che lo apro, così ve lo condivido con voi. Un attimo che lo cerco. Questa 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 Scusate, perdo un attimo di tempo perché non l'ho messo in una cartella, poi mi scordo come nomino le cartelle, quindi ecco qua. Eccole qua. Allora, trovato eh. Allora, io intanto ve lo leggo, poi eventualmente apriamo la discussione, se vogliamo cambiare qualcosa. Ordine del giorno, condanna delle violenze perpetuate dai ProVita. Premesso che l'associazione ProVita è un'associazione vicina all'estrema destra, il cui presidente Tony Brandi ha dichiarato a Radio 24 che i gay hanno tendenze pedofile, rompono i coglioni e possono essere curati. Le battaglie contro l'aborto sono forme di violenza alle donne e alla loro autodeterminazione. La proposta di rendere obbligatorio dover ascoltare un battito cardiaco del feto per le gestanti presente nella proposta di legge, un cuore che batte è una vera e propria tortura ai danni delle gestanti e delle donne tutte. Sostenere che la famiglia naturale sia quella composta solo da un uomo e una donna è una violenza omofobica nei confronti di tutte le coppie non heterosessuali che vengono dichiarate di inferiore dignità. Le campagne di affissione con un bimbo in un barattolo e la scritta che i bambini non si comprano è violenza nei confronti di tutti quei bambini e bambine nati dalla GPA. La petizione nazionale contro l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole, semplicisticamente rappresentata con il termine gender, è una delle battaglie ai danni di una seria prevenzione contro la violenza di genere. Il portavoce dei Provita, Jacomo Coghe, ripetutamente nelle sue dichiarazioni pubblico parla di donne che hanno effettuato una IVG come di piccole donne. Le battaglie dell'associazione Provita contro la carriera alias nelle scuole e nelle università è una chiara violenza contro tutti i ragazzi e ragazzi non cisgender che vengono privati e private della possibilità di essere chiamate con il nome di genere di elezione. Il Consiglio Municipale del Municipio 9 impegna il Presidente e gli assessori competenti a condannare fermamente tutte le violenze perpetuate dall'associazione Provita nei confronti delle donne e delle persone non heterosessuali. L'ho letta, adesso apriamo se volete la discussione, se qualcuno ha da dire qualcosa. Quindi questo nessuno ha da dire nulla. Per me va benissimo, prendo parola così di botto, per me va benissimo così, anzi è abbastanza impegnativa quindi sono anche contento di leggerla in questi termini. Grazie, allora facciamo così, chiedo a chi la vuole firmare, così almeno arriviamo in consiglio già con dei nomi per la firma. E io Presidente sicuramente. Ma gli altri mi sentono? Mi hai sentito? Ti sentiamo, ti sentiamo. Ah grazie, no perché non vedevo nessun movimento. Ti sentiamo Paola. Grazie, prego. Paola tu mi hai sentito? Io firmo sì. Sì sì sì, ho sentito, però sentivo solo te e pensavo che gli altri non sentissero. Allora io prendo l'adesione del consigliere Angelini, non so se c'è qualcun altro che vuole firmarla o eventualmente aggiungere qualcosa. Ok, allora visto che nessun altro vuole aggiungere nulla, questa era delle varie deventazioni, un'altra piccola informazione, molto probabilmente martedì prossimo potremmo fare una commissione congiunta con la commissione politica e sociali per quelle tematiche che possono essere inglobate nelle due commissioni in favore del dibattito sul bilancio. La stiamo predisponendo con la Presidente Patrizia De Vivo e appena pronta la convocazione, se riusciremo a farla, ve ne darò contezza. Per il resto, sicuramente per il bilancio prepareremo degli ordini del giorno, anche come commissione pari opportunità, anche in virtù dei documenti che sono stati votati dal Consiglio, ma non solo dal Consiglio, ma anche che ci sono stati proposti dal Comune di Roma. Ad esempio, mi viene di pensare alla Città delle Donne, perché se poi non ci danno fondi per le varie opportunità, tutto ciò che noi possiamo fare per questa tematica risulta sempre e solo dei temi aleatori, ma non concreti. Allora, io vi ringrazio, sono le 16.55 e io credo che possiamo chiudere qua la Commissione, se siete d'accordo. Ok. Grazie. Va bene. Grazie a tutti e ci vediamo giovedì in Consiglio.